Siamo arrivati in questo momento dell'ospedale Sant'Anna, oggi grande vittoria, ma oggi avete fatto il colpaccio? Ma non ti posso rispondere io, non direi proprio, siamo partiti benissimo, abbiamo subito trovato il spazio tra le linee Ovviamente abbiamo preso i nostri gol perché siamo calati mentalmente, abbiamo subito un po' la tensione Potevamo fare anche di più in gol sbagliati davanti alla porta, però è andata bene, non ci lamentiamo Vuoi riassumere un pochettino la partita per le nostre telespettatrici? Siamo passati subito in vantaggio con due gol, poi siamo calati un po', abbiamo subito un paio di gol anche lì E niente, poi siamo andati in vantaggio, ci hanno recuperato e alla fine abbiamo vinto 5-4 e è andata bene così, dai Sotto una forte pioggia e anche il campo era molto pesante Raga, visto che si è scatenato un clima di tensione, diciamo, verso la fine, facciamo un commento in positivo sugli avversari Ma sì, è stato un po' l'arbitro che ha compromesso un po' la partita in certe occasioni Tutte e due le panchine hanno protestato, però per il resto alla fine c'è stato il saluto È calcio questo, è calcio, un po' di navitesi e niente, però poi siamo usciti, ci siamo stretti la mano e è finita lì Grazie ragazzi, grazie per la disponibilità e grazie e bocca al lupo per la prossima, ragazzi